Ciao amici di Paluani, sono Giulia Sergas, sono una giocatrice di golf professionista da nove anni e ho iniziato a giocare questo sport magnifico all'aria aperta dove è tutto molto sano, si può iniziare da quando si è bambini, si può continuare a giocare fin quando si ha le gambe che ci sostengono. Ho vinto molti titoli italiani e ho vinto anche un titolo europeo e adesso gioco in America. Oggi ci terrei a dire che l'alimentazione per uno sportivo è uno dei mattoni più importanti per sostenere l'attività che abbiamo mantenere per 5 ore o per 8 ore di allenamento o anche di gara e per questo anche mi alimento con dei cibi molto nutritivi e di prima qualità e quindi è molto importante perché le energie per affrontare la giornata e lo sport che si fa sono la chiave per il successo. Consiglio a tutti di rispettare il proprio corpo, di tenersi in forma, di fare sport, di fare movimento e mangiare cose sane e nutrienti e sicuramente non eliminare quei cibi magari che ci fanno anche piacere gola solo perché si pensa di ingrassare perché alla fine basta divertirsi andare all'aria aperta e fare una camminata e anzi è tutto di guadagnato. Beh se non avete mai provato a giocare a golf e vi interessa iniziare il consiglio che vi do è non essere timidi, chiedere ai vostri genitori di portarvi su un campo da golf quello più vicino a casa in Italia ce ne sono diversi. Direi più che fare tante lezioni provare a giocare questo sport magnifico e cercare di essere i propri maestri perché alla fine un bambino ha tutte le caratteristiche che gli servono. Certo qualche lezione qua e là per iniziare ma l'importante è divertirsi, socializzare con altri bambini che è anche molto importante e soprattutto è uno sport che insegna l'etichetta e il rispetto sia per l'ambiente che per le persone con cui giochi. Quindi a tutti i bambini io lancio questo invito a provare a giocare a golf perché ci si diverte, si usa la fantasia e si impara molto. Un regalo a me che piace il cioccolato e queste cose buonissime da Colombina. Complimenti. Grazie. Grazie ancora e alla prossima.